bella raga 8 nuovi giochi sul mio canale oggi riprendiamo la oggi riprendiamo la serie di Stragona 2 sit around thinking about how great we used to be mother didn't even want that life back until we got dumped here and you only care because we're under Templar scrutiny very well Carver what's your plan I'd look forward make something new stop paying debts for old men and if I had to go backward I'm not looking for ancient names I'd fix what's important what went wrong we can't just go back we wouldn't need to if you've done it right Lotharing was our home not this place we could have stood our ground you could have stopped that ogre from killing Bethany you own as much of that as I do I never claimed to be head of the family neither did I but someone had to save your arse all right brother I feel I don't know it's like mother taking everything out on us she was just scared I don't have a place in the life she is trying to bring back I'm here if you need me but I must find my own way I'm with you brother for now so what are you here to gloat Gamlin's the idiot again Gamlin's the fool who can't hold his money when it's given in a bloody silver basket I tried you know when Leandra left but no one was ever going to live up to her don't make excuses I changed their filthy sheets and white their chins through two bouts of the cholera and the last word father said was Leandra I'm not looking for love but at least I got the money ok ok non mi ricordo cosa dovevamo fare quindi non lo so eh 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 ok facciamo questa so allora ho cominciato Van Helsing che avevate chiesto molto oggi è sabato quindi ci sarà un videovlog come si giocava a sto cazzo del gioco non me l'ho ricotta no 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 Grazie a questa cosa, non riesci a un bel bel giusto in un bargain. Tu, però, sei quello che un uomo ha bisogno, un entusiasmo attraverso. Puoi iniziare a fare sensi ogni volta. Mi mani, Javara's tintop, mercantile e investe. Ne ho bisogno di pensare per aiutare i Qunari. Quattare i Qunari? Per pensare di i bambini. I questi Hornheads in Kurgwal hanno un pollo che esplodono, e è solo un pollo, no lirium, no demoni, nessuno può usare. Mi guardo sempre a ogni secondo idioto e pensi, che ha bisogno di più potere. Quindi è un tipo di magia di Qunari. Qual è l'uso per un Dwarf? Se è magia, è un tipo che puoi assemblare, e Dwarves lo faccio molto bene. Ma l'arishok non si tratta, e io ho la stagione di mercenari come gli outcasti, gli Talvashoth. Ma ha detto che non è vero, ma ha un pollo in gli occhi, quindi mi sembra un pollo, e... E tu dovresti provare a farlo con i Talvashoth Outlaws? Il problema è che non è un guerriero, ma posso pagare. Ho! Ok, Aveline, ma faffanculo. C'è un cazzo da fare? C'è un cazzo da fare? Proseguiamo allora. Questo gioco mi interessa molto. Eh, quando arriverai 100 video farò una cosa un po' speciale che non vi dirò ora, lo dirò in un vlog oppure non ve lo dirò solo una sorpresa ma siamo già 70. C'è quasi 80. Quasi 80 video. C'è un cazzo? C'è un cazzo da! C'è un cazzo da ? Bom 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 bom... 10 30 12 12 ahal derasestro com AC oggi c'è uolwud? cantono see capitol staffer c'è Sì, non c'è... La scuola non ha portato a mia madre. Sono un'attività anche, Elf. Di la vengenza di Zafrian. Stranger, per favore di calma. Mi sento bene, tu sei un uomo. Sono un uomo, ma non è ancora più. La dalisca giocatore ha curato alcune persone con lichantropia da lungo. La malattia ha spreadato durante i anni, ma il hero di Ferelden ha liberato noi. È tutto il vostro. Vai, Shem. Ci farà il hunt più divertente. Ok. Ehm... 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 Do not say you are one of the world! Ah, non ho mai più amici, Bianca. Andiamo a tutti. No, non ho mai più. Calvishov controlla queste passaggi. Mi sono più che capace di capire nessun risultato. Quindi vedo. Mi aspettavo a prendere un caravan, non un trattatore. Il passaggio è... Littera con il mio tipo. Se sei così attraverso, mi piacerebbe se tu li uccisi. E io dovrei confiere a te? Non ho ricordato di farlo a te persone. Non mi piacevole. Non mi piacevole il mio lavoro, quindi mi lasciato il cubo. Non mi piacerebbe essere un uccionista, quindi mi lasciato i talvrishov per warnare i loro...victims. Non sei un uccionista, quindi ora mi farò. Se loro ti hanno offentato così tanto, mi aiuta a seguire loro. Ma io sono pelle. Non vogliono riuscire loro per coin, quindi si chiedono e si chiedono. Si chiedono l'onore che avevano il cuore. Ma il cuore non significa nulla. Io lo venderemo, e me stesso, come mercenari. Cunare potrebbe dire che io sono peggio. Se il tuo mercato è sul mercato, io farò. Non. Cosa significa che significa mercenari? Non. Non. Che cosa mi ha detto, è che io ho scoperto. E' una cosa che mi ha detto. Non mi ha detto. E' una cosa che mi ha detto. E' un'altra cosa che mi ha detto. Non mi ha detto. E' un'altra cosa che mi ha detto, l'unico. Cosa, oi non. Non. Ma più che si parla, la più che mi ha detto. Ok per ma l'attenzione inizia di di fare un sondaggio su un posto stimo tipo Non mi vedo Perchè Non mi vende Non c'è cosa che succede Tu vuoi che io faccio? Non penso che Non c'è proprio l'e una cosa Non probabilmente Non potrei fare questo Grazie. Grazie. Sì. 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 Mi sta laggando. Mi sta laggando. Beh, non lo so perché. Ah sì, perché sto convertendo qualche video. Ma che cazzo stiamo a fare? Ed è qua. ... ... ... ... ... no cazzo ieri a me prendiamo un po' tutto ritorniamo da quella mi sta alla gamba da bastion finisco questa missione e termino il video perché pspsps e 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 continuiamo da quella parte ok 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 e 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 l'interfaccia vediamo che ora andiamo su per straccio e e e no e e e e e e e e se proseguiamo proseguiamo non ho la promessa della polvere nera tipo oggi sto giocando solo giochi di tipo rpg ho giocato a che devo dire oggi ho giocato tipo giochi solo rpg ho giocato sto giocando a dragoneggia a Van Helsing quindi voglio giocare anche a qualcos'altro ah ma right hand arrives summon your air a shock the bargain is done about time you showed I've been here for hours hello oh brutto no 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 quittino per questo piccolo credo qui questo video completi ci vediamo la prossima, mettete un bel mi piace iscrivetevi è bella oh yeah oh yeah